buongiorno ragazzi oggi parliamo della società più potente dell'antica europa quella di roma sì sì la magica ma no la più antica è la lazio ma no non parliamo delle società calcistiche ma del popolo della città di roma antica roma nacque come uno dei tanti piccoli insediamenti fortificati lungo la penisola italica il mito narra che fu fondata il 21 aprile del 753 avanti cristo dai gemelli romolo e remo allevati da una lupa e nati dalla vestale rea silvia discendente di enea e dal dio della guerra marte e nea il protagonista dell'eneide esattamente l'eroe che fuggendo da troia dopo un lungo viaggio raggiunse le coste dell'antico lazio roma sorse su sette colli sul fiume tevere all'inizio era retta da un re che era anche il capo dell'esercito aiutato dal senato un consiglio di anziani scelti tra i patrizi cioè gli aristocratici la maggioranza della popolazione i plebei cioè contadini commercianti e artigiani erano esclusi dalla politica così come gli schiavi ovviamente da romolo in poi si succedettero secondo tradizione sette re nel periodo dalla fondazione al 509 avanti cristo quando gli aristocratici cacciarono l'ultimo il tirannico tarquinio il superbo e proclamarono la repubblica il senato durante il periodo della repubblica che è durato circa 400 anni era l'organo che proponeva le leggi e prendeva decisioni in guerra e in pace si riuniva in un edificio detto curia al foro romano ed eleggeva due consoli che restavano in carica un anno i consoli avevano il compito di comandare l'esercito e di far rispettare le leggi il pontefice massimo invece era il capo dei sacerdoti e collaborava nella stesura delle leggi in seguito a gravi tensioni tra patrizi e plebei questi ultimi proposero alcune riforme e nominarono i loro rappresentanti i tribuni della plebe quando a partire dal secondo secolo avanti cristo scoppiarono guerre civili cioè conflitti interni fra eserciti condottieri ed aspiranti al potere venne nominato un dittatore a vita giulio cesare che però fu assassinato nel 44 avanti cristo in una congiura cioè un patto segreto progettato e attuato da alcuni senatori nel 27 avanti cristo fu nominato il primo imperatore romano ottaviano con il titolo di augusto che vuol dire divino quante cose si tantissime una storia lunga e ricca di eventi beh pensate ai territori e alle popolazioni che roma influenzò non solo militarmente si diceva roma caput mundi cioè capitale crocevia di ogni attività politica culturale ed economica del mondo nella storia della loro espansione i romani entrarono in conflitto con etruschi e i greci delle colonie italiane e con altre popolazioni europee come i celti le tribù germaniche e i nomadi delle steppe dell'europa orientale e dell'asia da prima roma conquistò la penisola italica e poi in seguito alla vittoria su cartagine con le guerre puniche il mediterraneo occidentale alla fine del secondo secolo dopo cristo avevano raggiunto l'apice del potere dominando gran parte dell'europa dell'africa settentrionale e del medio oriente un territorio troppo grande da gestire e che quindi venne diviso tra impero d'occidente e impero d'oriente nel 395 dopo cristo il primo non resistette comunque agli attacchi esterni e cadde nel 476 dopo cristo l'impero d'oriente sopravvisse invece per tanti secoli ancora ma in che cosa credevano i romani politeisti avevano il culto degli antenati c'erano i lari dei che proteggevano la casa i penati che proteggevano la famiglia e i mani spiriti degli antenati gli dei romani traevano origine da quelli etruschi e greci citando solo alcuni dei principali dei giove ne era il padre giunone moglie di giove proteggeva nascite e matrimoni marte era il dio della guerra minerva la dea della sapienza e della conoscenza venere era la dea dell'amore diana era la dea della caccia nettuno era il dio del mare mercurio il dio che portava i messaggi degli dei apollo il dio del sole vulcano il dio del fuoco un dio molto antico e italico era giano che proteggeva le porte delle case e della città giano aveva due facce che guardavano verso direzioni opposte entrata e uscita passato e futuro perciò era chiamato bifronte forte i romani erano molto tolleranti verso le altre religioni ma non verso il cristianesimo che metteva in discussione la struttura sociale romana e alle sue origini fu bandito con vere e proprie persecuzioni contro i cristiani costretti a rinnegare la propria religione o uccisi migliaia di martiri morirono come nella persecuzione attuata da nerone nel 64 dopo cristo nonostante queste persecuzioni il cristianesimo sopravviveva nelle catacombe i luoghi dove i cristiani seppellivano i propri morti gallerie sotterranee scavate nel tufo dove si riunivano clandestinamente per pregare con l'imperatore costantino il cristianesimo cessa di essere illegale fu lui nel 313 dopo cristo a emanare l'editto con il quale si riconosceva la libertà di culto ai cristiani ci sono stato a visitare le catacombe sembra di stare nella pancia della terra e ci sono molte iscrizioni e affreschi da scoprire fermiamoci qua piccoli amici in un'altra lezione parleremo di arte e società di questo fantastico periodo storico oppure provate voi a fare una piccola ricerca su questi argomenti a presto a presto a presto a presto a presto